immagino di sì, un applauso a Marco Dallago per il suono che è arrivato a voi noi abbiamo sentito benissimo e ringraziamo Adriano Procca per quello che è arrivato a noi grazie a Fabio Gagliotta che vedete, scusa, a Fabio, scusa ho fatto una confusione e finisce mai a Biagio Fumai che vedete entrare e uscire, grazie a Biagio e grazie anche a Fabio Gagliotta che anche lui lavora qua sul palco e si prende cura di noi grazie a Daniele De Santi Salerucci e grazie, un disgraziamento oltre a loro anche a quelli che voi non vedete, quelli che scaricano, caricano, montano, smontano e sono quelli che con questo caldo lavorano di più e a loro va il nostro più sentito ringraziamento grazie, è un grazie particolare, sembra piaggeria ma non lo è va sempre a voi perché senza di voi tutto questo non avrebbe nessun senso